Tentata rapina con coltello nella zona industriale di Padova. È successo tutto nella tarda mattinata di martedì, quando la volante del commissariato Stang è intervenuta in via Lisbona. Una donna, 42 anni italiana, appena scesa dalla sua auto in un parcheggio, è stata avvicinata da un uomo che, minacciandola con un coltello, ha tentato di strapparle di mano la borsa. Lei ha immediatamente reagito, riuscendo anche ad allontanare e a mettere in fuga l'uomo, che aveva pure tentato di salire sulla sua autovettura. Nelle fasi dell'attentata rapina la vittima ha riportato anche due tagli superficiali medicati in pronto soccorso, da cui è stata successivamente dimessa. La squadra mobile ha attivato le indagini per risalire all'identificazione dell'aggressore. La cosa preoccupante è che è successo in pieno giorno in una zona piena di uffici e di persone che lavorano. E poi c'è un recente precedente che risale a novembre, quando si consumò in pochi istanti un'altra rapina, questa volta messa a segno all'interno della filiale di una banca, sempre qui in via Lisbona. Un bandito, travisato in volto con del cerone armato di taglierino, aveva fatto irruzione nella banca in zona industriale. Si era fatto consegnare il denaro dai dipendenti allo sportello, mentre erano presenti anche dei clienti. Ed infine era fuggito a bordo di un'auto, facendo perdere le proprie tracce del caso si era occupata la polizia.